Ma quante versioni volete fare uscire di questo drone? Ne parliamo in questo video e anche di altro Ciao amici, bentornati o benvenuti su Freddytec, io sono Alfredo, pilota di droni e appassionato di tecnologia a 360 gradi come molti di voi Nel video di oggi, oltre ad aggiornarvi sull'imminente uscita dell'ennesimo drone DJI, ovvero il DJI Mini 3 Quando ormai escono solo droni della DJI, volevo condividere con voi un pensiero che mi girava in testa Che ho condiviso anche nel mio gruppo Facebook Cioè perché vi compare questi droni costosi come il DJI Mini 3 Pro se dopo un mese, due mesi poi ve li rivendete Parliamo prima del DJI Mini 3, vediamo che cosa avrà in meno rispetto a questa versione Pro Perché specifichiamo subito, come avevamo detto in questo video tre mesi fa, che il Mini 3 sarà una versione più economica E quindi per forza di cose hanno tolto Partiamo dal vedere esteticamente cosa è cambiato e lo vediamo grazie alle immagini che sono state pubblicate sul profilo Twitter di DLZ Drone Nella parte frontale notiamo che sono state aggiunte di nuovo le gambe a questo drone E c'è un motivo molto semplice, come ci ha spiegato il mio collega e amico di piattaforma Raffaello In molti dei suoi video sul DJI Mini 3 Pro Per farvela molto semplice è spartana, i droni convenzionali ricevono il segnale al radiocomando in questo modo qui Mentre il DJI Mini 3 Pro li riceve in questo modo qui perché l'antenna si trova appunto nelle sue braccia anteriori Mentre di solito si trovano nelle zampette appunto quelle che sono state aggiunte nel DJI Mini 3 Se vi chiedete perché il DJI Mini 3 Pro ha le antenne qui dentro è perché visto tutta l'elettronica che c'era a bordo Dovano per forza di cose risparmiare qualche grammo per fare in modo che questo drone rimanesse inoffensivo Ovvero sotto i 249 grammi, infatti pesa più o meno 248 grammi, stiamo lì Questo ritorno alle origini diciamo che è dovuto al fatto che nella C-Mode con la polarizzazione orizzontale Purtroppo ci sono stati dei forti decadimenti di potenza del range di controllo E in sostanza come abbiamo visto anche sempre sul mio canale YouTube in questo video Abbiamo visto che il range di controllo anche se si arriva a 1,6 km, 1,7 km quindi abbastanza perché in Italia vi ricordo si vuole a vista È stato fortemente penalizzato da questa nuova tecnica tra virgolette di polarizzazione Tengo comunque a ringraziare Raffaello per aver condiviso con tutti noi le sue conoscenze tecniche E vi invito anche ad andare a dare un'occhiata al suo canale YouTube Vi lascio qui sotto in descrizione il link per il suo canale Sempre osservando il drone notiamo due cose La prima è che i sensori nella parte frontale molto probabilmente sono spariti E anche nella parte posteriore Quindi questo nuovo DJI Mini 3 non avrà i sensori anti collisione Possiamo dedurre anche che a livello software sarà probabilmente escluso anche l'Active Track Ma di questo non vi è certezza, lo scopriremo solamente quando uscirà Posso affervarvi con certezza però che un drone senza sensori e con Active Track non è tanto sicuro Infatti proprio per questo DJI secondo me non lo introdurrà nel suo nuovo drone La camera? La camera ragazzi a meno da vederla è identica Quindi c'è la possibilità di ruotarla a 90 gradi Effettuare riprese subito pronte per Instagram Quindi quello che già tutti sappiamo Non è confermato ma il profilo colore Disney like Che viene utilizzato ovviamente dai professionisti o dagli appassionati di settore Non sarà presente Altrimenti non ci sarà differenza tra questa versione Pro e la versione non Pro La qualità dei video rimarrà in 4K 60fps La dimensione del sensore sarà sempre uguale Quindi per quanto riguarda la telecamera La camera scusatemi rimarrà tutto uguale Batteria Allora la batteria, l'autonomia di volo è venuta fuori che molto probabilmente Tolto il peso dei sensori e dell'elettronica a bordo che gestisce tutto questo Il drone peserà di meno Quindi questo drone con la stessa batteria ma con un peso inferiore Molto probabilmente guadagnerà quei 2-3 minuti di volo Ma giusto per Poi anche qui c'è da tenere in considerazione il discorso delle luci verdi lampeggianti Che abbiamo affrontato in quest'altro video che vi lascio qui in alto nella scheda Che è molto, anzi questo andatevelo a guardare rispetto agli altri Che è legato al volo di notte Vi ho parlato di come si vola Perché è meglio volare in un certo modo Tutto il regolamento per il volo notturno Perché anche volare di notte ha un suo regolamento E quindi anche su questo nuovo drone come da regolamento ci saranno le luci verdi lampeggianti Spostate di poco verso l'esterno come possiamo vedere dalle immagini Spero ovviamente che abbiano risolto il problema del loro spegnimento di queste luci Durante la registrazione In pratica quando si vola di notte con questo DJI MiniT Pro Vi ho mostrato nel video che quando avviate la registrazione I led verdi si spengono per non dare fastidio alle riprese Voi direte ok, bello, perfetto, meglio Però se voi state in area e il drone poi non lo vedete più A 30-40 metri di notte dovete spegnere la registrazione Ripre recuperare il drone, farvelo riavvicinare e tutte queste cose E comunque anche in area un drone senza luci verdi lampeggianti è illegale che ci sia Che possiamo aggiungere su questo DJI Mini 3 Non mi sento di aggiungere nient'altro su questo drone Però, ah, ovviamente il prezzo Immagino che all'inizio come tutti i droni di recente uscita E dei loro vari remake All'inizio sarà commercializzata solo la versione combo Che ipoteticamente costerà sui 1000€ con drone DJI RC Che è questo qui con lo schermo E tre batterie Poi comunque tanto vedremo sempre sui vari stall online Quando arriverà a costare Ci sono vari leaks, varie cose Ma tanto alla fine Quello che ci interessa è andare a vedere il prezzo Effettivamente quando viene commercializzato qui in Italia Usciranno anche le altre versioni Quindi solo drone Ma solo drone uscirà molto probabilmente dopo Quindi chi ha un DJI Mini 2 E vuole fare il passaggio al DJI Mini 3 Potrebbe essere sensato Perché sarà compatibile anche con il vecchio DJI RC Il solito che sta lì in alto alla mia destra E quindi magari su un drone del genere Con tutte le cose che abbiamo detto in meno A 500-600€ potrebbe essere una buona cosa Fortunatamente DJI ha utilizzato questa politica Quindi direi che ci siamo Una cosa sicuramente molto utile Che il DJI Mini 2 come usato Si troverà a prezzi vantaggiosi Perché questo drone che uscirà Molto probabilmente Come avete letto nel titolo del video È stato creato anche per Diciamo Fare una ghigliottina Tagliare fuori il DJI Mini 2 Che inizia ad avere una certa età Almeno commerciale Per concludere questo video Rispettando la mia scaletta A mettere la ciliegina sulla torta Volevo un po' stuzzicarvi Come ho fatto sul mio gruppo Facebook Domandando a molti Ma perché vi comprate droni Tipo il DJI Mini 3 Pro O il Mavic 3 Pro Addirittura da 1000 passero anche di più E poi scrivete che non lo sapete usare Che ve lo rivendete Perché ci avete volato poche volte Perché non avete tempo Ma tanto se non avevate tempo Già lo sapevate da prima Quindi la scusante È che non vi volete mettere lì a studiare Ma ragazzi Non ha senso comprare un drone del genere E superiore soprattutto Se poi non volete mettervi un po' a studiare Perché è come tutti quelli Che un paio di anni fa Si compravano le Reflex Le mirrorless nuove Con obiettivi anche costosi E poi dicevano Eh però non riesco a fare foto Non riesco a fare quello Non riesco a fare quell'altro Dietro la fotografia Dietro i video è uguale C'è uno studio Cioè non è che viene lasciato tutto lì a caso Quindi se dovete Se non avete voglia di stare a imparare Le tecniche di ripresa Montare i video al PC Montare i video al Mac Ma magari volete provare Le brezze del volo con un drone Comprate quelli da 2-300 euro Ma anche un Mavic Mini Va bene E diciamo Alla più Se accorgete che O non avete tempo O non vi piace Oppure non avete un computer Per montare i video E non volete spendere i soldi Per montare Per comprare un computer Che vi permette di farlo Voi lo rivendete E male che va Avete perso 50-60 euro La butto lì Un drone da 1000 euro Non è che fa cose assurde Ha solo semplicemente Una qualità Qualche sistema di sicurezza In più Che può essere sempre utile Sia a un professionista Sia a una persona Che ha preso da poco Un drone Ma non fa miracoli Chi pilota il drone Chi monta i video Chi ci mette le musica Chi fa tutto questo Siete voi Scusate se lo dico qua Ma penso di esprimere Un pensiero comune Cioè smettetela Se lo comprate a 1009 euro Questo In questa versione Con una batteria E il DJ RC Non potete rivenderlo A 980-950 euro Anche se ha fatto tre voli Perché la gente Per 50-60 euro Se lo compra nuovo Vabbè ragazzi Questo ovviamente È il mio pensiero Che può essere condiviso O contraddetto Normalmente Come succede sempre Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo nuovo drone Che uscirà Molto probabilmente Adesso Fa qualche settimana O prima di Natale E soprattutto Fatemi sapere Cosa ne pensate Di chi acquista Droni costosi Che poi li rivende E non li sa usare Detto questo Spero che il video Vi sia piaciuto Come vi avevo promesso In un piccolo video Su Facebook Ce ne sarà anche Un altro domani Quindi Ce ne è stato uno ieri E ve lo lascio qui Un altro nella scheda Questo è quello di oggi E domani ci sarà Un unboxing Così leggero Perdonatemi Se non vi ho portato Tutorial in questo periodo Ma come dicevo Come vi ho detto spesso Qui piove sempre Quindi sono quasi Due settimane e mezzo Che piove Anche oggi pioveva Volevo registrare un video Con i filtri ND Della Freewell Ma non ci sono riuscito Perché pioveva Detto questo Noi ci vediamo Nel prossimo video Sempre qui Su Freddy Tech E mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per supportarmi In maniera del tutto Gratuita Ciao amici Buona giornata E buon giorno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.